E' ok se tutto va bene tutto è ok tutto è forse non è ok How papà di youtube sono indietro e benvenuti su say no more o di no molte volte o ancora o ancora 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 o ancora 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 ma in ogni caso che cos'è say no more è un gioco molto particolare un gioco in cui noi dovremmo dire di no alle richieste più strane durante l'ufficio cioè del tipo ehi tu mi vai a prendere un caffè anche se sono vicino alla cucina sono molto piccolo me lo vai a prendere e tu dovrai dire no ecco in pratica gioca così è molto strano molto particolare ma anche molto carino e sono curioso di vedere come andrà quindi ladies and gentlemen benvenuti su say no more e iniziamo proprio con la creazione del nostro personaggio quindi no creiamolo da nuovo allora vediamo quanto ci impiegheremo a fare un po' il tutto mi piace un po' il viso così no piccolino no così ok va bene ce lo facciamo così potrebbe anche andare bene o del tipo molto serio capelli ce le facciamo oh si così mi piace I like it sono cappellone vai cappellone mi piace cappellone vai let's go però verdina facciamoci lì no così vai rossi rossi let's go barba mi piace così però mi piacerebbe avere tipo la barbetta la... oddio come si chiamava poi quello di KFC dannazione non mi ricordo più però tipo così è perfetta occhiali mettiamo occhiali così di un bel rosso come i capelli è perfetto è perfetto ora mettiamo vestiti tipo stile camicia camicia potremmo farla molto... no è estate corta con... no si e cacchio molto anni anni 70 però ma così dai no così let's go così mi piace c'è una giacca mettiamo una bella zacchettina no teniamocela così non è spesso ci sono altre giacche carine ah no questi sono i tessuti ok parte inferiore andiamo di un bel... ho troncino così mi piace i colori ci sono? facciamo i rossi come tutto noi siamo rossi e non rossi ma rossi che mi piace così e le scarpe dimmi che ci sono quelle rosse andiamo a piedi nudi perché noi possiamo dire no a tutto ma anche no alle scarpe ma i rossi così I like it allora dove eravamo rimasti? Abbiamo fatto il nostro personaggio però ci manca qualcosa ci manca ci manca quel qualcosa in più tipo perfetto mi piace è perfetto ma facciamo un po più giallo un po più cinese dai così è perfetto è fantastico ma questo sono io ma certo che sono io Ma sono io Ti piace questa sterilizzazione del tuo personaggio certo che sì Ma sono io Ma sono io Ah è vero dobbiamo scegliere la lingua no Abbiamo il nine Arabo Oddio andare di giapponese contro tutti sarebbe bellissimo Russo L'irlandese gaelico è così devi dire un'intera frase per dire no No Allora italiano non lo so è troppo troppo No normale c'è nel senso non da stile Mmm Iade giapponese fa un cura devo dire giapponese Iades prologo Andiamo ci sei in certo ecco ci sono Viene fuori la roba giapponese Fizz Bean Games presenta Fizz Bean Games presenta Wizzards of Nei The wizard These imps are guarding the devil king's tower Protecting the devil king who kidnapped your best friend Do this to cast your most powerful spell Nei Ok Nei For me wizard You can't defeat the devil king You can't even defeat me I've been defeated Perfetto Iniziamo benissimo Fulish wizard You may have defeated the last imp But I am the door master imp I'm stronger than the bridge imp Leave this place Fulish wizard You may have Perfetto Perfetto Che bello Oh wizard You bring anguish to yourself by being here Your quest will fail No I perish Hello wizard I'm the janitor imp You're here for the devil king Who kidnapped your best friend How rude Yeah I'm not gonna stop you Good luck wizard Okay Ciao Serviente I just need to charge up my energy No 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 Ah you're here The devil king Is your best friend Oh no That's right Your best friend Is actually the devil king Me What will you do now Without your heart Without your What was that Pathetic Pathetic Your bravery Stat is too low You can't cast any spells Well Any last words Too bad Too bad Call out Nooo Game over Ah divertente come gioco Hey Sorry I'm late Are you playing those forbidden video games again? They're really Bah I'm just teasing you I'm just teasing you I can't believe it's your first day working at a real office We've been applying so hard for one of those And now you have one I'm really proud of you Oh So I have something As a little celebration Bye I made you a lunch box And I cooked you lunch too It has all your favorites I hope you like it Oh Wait One more thing Um Since you have like A real job now And I'm still looking Would you be able to pay this month's rent again? Mmm Well You know what If I keep you on No Non posso dire di no 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 I hope your first day of work goes really well Have fun Call me after lunch Good boy Andiamo in ufficio In un vero e proprio grande ufficio Oh mio dio Sei in omo Oh yeah Welcome intern Hey You're late Hey What's your excuse? Huh What? You can't just mumble around here I'll fire you before lunch If you don't learn how to talk Just kidding Haha Great joke supervisor If you don't like my joke I'll fire you Kidding Madora saada Also joke We like to have fun around here What a fun work place Anyway get to work you lazy Oh right Almost forgot Motivation speech Incoming Welcome inter Welcome to your first day at our company It might seem scary But it'll be a big learning experience Oh You learn so much about how the world works But Know That you have to be open You have to say yes to everything around here Yes Great start But I mean literally Ok? Yes Good Literally say yes all the time Yes Yes Wonderful It's all about being a real team player You just gotta be Positive Yeah So Let's have a practice run I am hungry and I really want that lunchbox I say Hey intern Give me that lunchbox Ma 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 No I'm kidding Nobody's gonna take your lunchbox away intern Not yet Haha It's a joke Relax Dio mio Questo deve volare via sto tizio Great Have fun And Where are our desks? They are Somewhere around the vending machines So make your way to your desks And when you get there Work Just absorb all that experience, you know And don't forget Be open Say yes And you'll get promoted or something Ooh, I'm gonna get that promotion You do say yes a lot Yes Capitolo 1 No problem Intern Make me coffee What kind of sound was bad? Take a coffee as well But without milk Why are you still here? Hurry up! The printer is jammed Fix it, will you? Good intern Welcome to the intern corner Oh mio dio che brutto A bit icky I think Oh It's just Authentic Yes Authentic Great Oh Your desk is over there Behind the vending machine Hey dorks I need two interns To do some lame and boring work Yes Follow me Uh Yes Di sempre si per tutto Hey intern Funny story Remember when I asked you to give me your lunchbox? Turns out I actually forgot my lunchbox at home And I need one for later So Give me your lunchbox Intern What? Yeah That sounded like Yes No Thanks intern Bastardo Mmm 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 A workman Ah no Oh no Oh no Hey you Can you just start your internship And get destroyed by your co-workers Your supervisor probably just stole your lunch Problem is You're too scared to say anything But you can do it I believe in you Yeah You need three things One This Take Two Confidence That's right believe in yourself Listen to your heart You gotta believe God Good The other thing you need is just one word It's the word No Just do this Say it with me Yades No No Come on try it on this jerk Make me coffee Tell her no Whoa Yades Not bad Yades 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 Lo Hyah The other thing is mean My confidence La mia autoestima My confidence is shrinking My confidence is shrinking Però sì ragazzi, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di mettere sotto un bel commento Non è che siamo tutti nati con gravatte 24 ore, perché non dovrete volere qualcosa di più che lavorare qui? No, te lo dirò no Dannazione E' la mia Lancebox No Qualcuno Oh ok Vai voglio vedere il tuo nuovo videogioco Ok, sono curioso di vedere che cosa hai fatto Oh 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 Si i miei documenti no Cuore delle balle può dalle balle fuore delle balle Dimmi tutto O O Ah ok vuoi che mi scuso? Ok, lo tieni Poi te le palle! Non pensavo che la parola gente fosse così potente. Sì, 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 sì. come guadagnarsi e niente, abbiamo fatto partire lei verso un altro universo un altro universo un altro universo un altro universo un altro universo